L'affare delle mascherine ha portato nelle casse della SunSky 60 milioni di provvigioni, anche se all'azienda dicono che sono un po' meno, saranno 59 milioni e 500 mila. E' stato organizzato da Mario Benotti, questo è un personaggio, ex direttore generale di Rai Ward, capo redatore in aspettativa della TV di Stato, ma con ottimi addentrellati nella politica. Per aver messo in contatto la SunSky con il commissario straordinario Domenico Arcuri e con il funzionario dell'ufficio acquista Antonio Fabrocini ha incassato 12 milioni di euro. Ma ditemi voi, ma ditemi voi per averlo messo in contatto.